Basket, sesta giornata di ritorno del campionato regionale di promozione, la sveva pallacanestro Lucera affronterà in trasferta il Corato, uno scontro al vertice importantissimo. Basta una vittoria per la società lucerina per poter blindare il primo posto in classifica. Garra casalinga invece per la SD Basket Lucera che dopo la debacle del turno scorso vuole tornare a mostrare il suo carattere domenica contro il Ruvo al palazzetto dello sport di Viale Canova a Lucera. Per quanto riguarda la pallavolo Serie C maschile, sabato 10 febbraio il DS Group è impegnato a Trigiano contro la Tribianuma SD, mentre osserva il turno di riposo l'Unipol Sai. Gara casalinga per la farmacia Fares Lucera nel campionato di Serie D femminile di pallavolo. La squadra lucerina accoglie progetto BAT sabato al palazzetto dello sport, mentre la SVG Energy Lucera sarà impegnata fuori casa contro l'Asdam Pegaso.